Bianco neri! Sulle cerpe! E forza Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con Juventus Club Gizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Sassuolo. Quarta giornata di campionato domenica 16 settembre ore 15. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni Juventus Club Gizzano Bianconera, piazza Matteotti 22, Gizzano. Per contatti telefonici Antonio 348 80 88 803, Cristian 349 68 000 66, Giuseppe 347 04 17 623. E sempre Forza Juve! Fino alla fine! Grazie a tutti!